Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, qua cari amici, cari lontani, abbiamo i cetrioli di tutte le misure, più lunghe, più corte, più lunghe, più corte, questo è il più corto, e poi cari amici abbiamo qua il cetriolo tipo boomerang, tipo boomerang, è quello a forma di ombrellino, ombrellino, eh Gagliardo questo casino si tiene così, è così che si va, si va, si va, si va, e poi abbiamo le pere, a chi piace le pere, a chi piace le pere, a chi piace le pere, oh ma che bello, poi abbiamo i fiorellini qua, i bei fiori, comunque caro casini qua, abbiamo tutti i bei cetrioli, poi salutiamo, salutiamo tutti i miei amici vicini e lontani della montagna, i miei colleghi lavoro e tutti quanti, salutiamo anche mia moglie Rita che insomma, anche lei è brava quando dorme, è brava, è vero Lili? Ok vabbè, salutiamo tutti, ciao ciao, salutiamo il mio amato Liglia, ciao Liglia, ciao Liglia, ciao Liglia, bom, bom, vediamo, oh non è mai staccato, staccato